Eeeh, laaienue Eeeh 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 Ragazzi, era 2 a 0 Direi che Non ha meritato la vittoria Devo fare anche molti... molti gol, va bene E vedremo domani, ragazzi Andiamo fatendo che veniva il risultato Sarai beccarino 2 a 0 Pace la pace 3 punti Irmett gelir anche a Napoli e Mina Morniamo molto a strada Abito in strada Ragazzi, avvora, a presto Dai, dai, dai Dai, dai, dai dai Dai, dai, dai Tai, dai, dai, dai 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 punti Tre punti fondamentali, buonasera, Inter Verona 2 a 0, ieri, gameplay 2 a 0, stasera 2 a 0, paro paro, paro paro, benissimo, 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 allora, innanzitutto io adesso sto facendo sempre trailer, sponsorizzazioni per il mio videoclip musicale che ho pubblicato sabato scorso, quindi a inizio video vi trovate un estratto del videoclip, se vi piace il genere vi invito a guardarlo, se vi piace mi commentate, fate quello che volete, e noi nel frattempo commentiamo la nostra bella partita, farò un video breve, veloce, tanto non c'è niente da aggiungere, da dire, tanto comunque poi neanche il tempo di, che poi dobbiamo già pensare alla prossima partita quando lo spezza il venerdì, ma comunque una bella partita finalmente, oh che piacevolezza, vedere quest'Inter che gioca a calcio, no, che fa con due passaggi di fila, certo, con i contropiedi Dunfe si è un po' impappinato, non capivo perché faceva scelte e scelte di, a volte non passava, a volte tirava, vabbè, ma comunque, insomma, hanno giocato tutti più, diciamo, bene, Dzeko era ovunque in campo, Correa, giocato benino, mi è piaciuto non tantissimo, vabbè, si sta riprendendo anche lui, Skinner monumentale, il classico sempre monumentale, e Peretic, uno dei uomini partita, perché comunque due assist, due gol nati da lui, quindi è sempre, sempre impegnato, e insomma, oh, finalmente un Inter che è piacevole da vedere, in questi cacchio di sabato di sera alle 18, mi danno un fastidio stelle partite alle 18, un fastidio, ok, sei sempre lì, alle 6, poi devi mangiare, lì, comunque, nel frattempo vi sono goduto qualche intervista, ora, vediamo se siamo realmente tornati all'Inter di inizio stagione, perché un po' ci mancavano due vittori di fila, ma da una vita ci mancavano, ora, milanista, eh, adesso, tocca a voi domani sera, oh, Toro, Torino, Granata, per favore, eh, va bene, vi abbiamo fatto un tortino, un tortino, eh, nell'1-1 contro l'Inter, per l'appunto, fateci sto favore di dar fastidio anche all'altra sponda di Milano, quella rossonera, vediamo un po' cosa succederà, comunque, noi abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro dovere, ora, vediamo un po' le altre cosa faranno, c'è anche il Napoli, insomma, che non aveva una partita facile, contro chi, non mi ricordo, Fiorentina, può essere, non mi ricordo più, e, comunque, oh, un sabato, finalmente sereni, finalmente, insomma, abbiamo visto qualcosa di buono, fa piacere, perché comunque, almeno, abbiamo capito che, può darsi che quella vittoria contro la Juve, abbia dato una svolta psicologica, sebbene, era una partita lì, io domenica scorsa, domenica sera, proprio, sono uscito schifato, ho goduto poco dopo, ovviamente, quando vinci con la Juve, godi sempre, perché mi c'è voluto un po' per capire, veramente, che abbiamo vinto contro la Juve a Torino, però, sinceramente, l'Inter lì non mi era piaciuta, come mi stava piacendo, da un po' di tempo, questa sera, finalmente, abbiamo visto l'Inter, che abbiamo visto, che, 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 che volevamo, l'Inter che deve fare, quantomeno, la partita, abbiamo un po' rischiato, per carità, non ci ha fatto delle belle parate, Simeone, uno dei più pericolosi nella partita, è stato, appunto, fastidioso, fastidioso, però, comunque, zero gol subiti, anche stavolta, clean sheet, che, anche quella, mi fa sempre piacere, zero gol subiti, altro che, altro che, comunque, ragazzi, bene così, la vittoria 2 a 0, ora, testa, a venerdì, con lo Spezia, occhio lì, con quelle trasferte che sembrano facili, ma poi dopo, non staremo molto attenti, ora, vediamo un po' i risultati, ci sediamo tranquilli, sul divano, domani, e guardiamo i nostri risultati, i risultati delle prossime partite, vediamo un po' cosa riusciranno a combinare, quelle in lotta, la Juve sta facendo in questo momento, non ne ho idea, no, si è appena iniziato, quindi, ci interessa poco, tanto ormai stiamo prendendo il largo, per fortuna, ragazzi, allora, sempre forza Inter, ora, rialziamoci, finalmente un po' più sereni, un po' più di serenità, quella che noi volevamo, quella che l'Inter, la nostra Inter, deve avere, sappiamo, siamo forti, ma, mancava soltanto la vittoria qua, da un punto di vista psicologico, quindi, speriamo di fare delle buone prestazioni anche per le prossime, Spezia, poi Coppa Italia, ora comincia il clou della stagione, e siamo a buon punto, vediamo un po' cosa succederà, sono molto curioso per le prossime partite, a presto ancora Forza Inter, buona domenica, iscrivetevi al canale, mi raccomando, a presto, ciao.